Che cos'è il ciclismo? È una domanda molto impegnativa, anche perché prevede un passo indietro e che cos'era. Che cos'era e che cosa è diventato. Se si pensa che i corridori hanno nelle orecchie una trasmittente, sono praticamente teleguidati dall'ammiraglia, direi che questa è la fine dell'avventura. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!